Il progetto proprio in Prefettura è stato firmato questo importante accordo di programma per la realizzazione invariante alla pianificazione urbanistica del progetto di inclusione sociale per una sistemazione abitativa per i rome del campo Masseria del Pozzo. È stata una fortissima testimonianza da parte del Comune Giuliano e del suo sindaco Pozillo di voler migliorare la vita dei rome presenti sul territorio. Sappiamo bene che molto spesso non sono campi attrezzati ma sono purtroppo delle zone disagiate, terribili, anche non accettate alla popolazione. Con questo campo si fa giustizia all'accoglienza, all'inclusione sociale e nello stesso tempo c'è una testimonianza forte nei confronti dell'intera comunità e dell'area metropolitana e della Prefettura che il Comune Giuliano ha contribuito a risolvere chiaramente, parzialmente, un problema così grauso in tutto il nostro territorio. Anche allontanare l'idea che pochi comuni debbano dare un contributo enorme. Credo che questo tipo di problema, come è stato chiesto anche dal Prefetto la settimana scorsa in una riunione con tutti i sindaci, credo che ogni Comune debba dare un suo contributo per questo problema, non solo dei Rom ma anche dei rifugiati politici.